E' scomparso all'età di 89 anni l'ex sindaco di Torraca, Raffaele Gaetani. Ha ricoperto la carica di primo cittadino per 20 anni, dal 1970 al 1990. E' stato iscritto anche al Partito Socialdemocratico e a lui si deve l'attuale residenza per anziani, Rosalia. Gaetani infatti è stato il sindaco che accolse l'istanza della Fondazione Rosalia per la costruzione di questa casa di riposo. A presentare questa istanza fu il compianto Arturo Rossa, noto imprenditore dell'epoca. I funerali di Raffaele Gaetani saranno celebrati venerdì mattina alle 10 nella Chiesa Madre.